Siamo arrivati un po' a un punto di svolta per quanto riguarda alcuni dei progetti cari alla Giunta Comunale al Sindaco Bucci, in particolare la vicenda della funivia da stazione marittima a Forte Pegato e l'altro progetto, quello di Sky Metro. E' un punto di svolta perché ambedue i progetti sembrano stare subendo una fase di arresto o quantomeno rallentamento. Per quanto riguarda la funivia ci sono due ricorsi pendenti al TAR e ci sono i rilievi alle note che la sovrintendenza delle belle arti ha fatto al progetto che obbliga un ripensamento complessivo perché è stata messa in discussione sia la struttura dei pilastri sia la scansione delle fermate. E d'altra parte qui c'è anche un comitato molto attivo al Lagaccio che da tempo si adopera perché il progetto venga completamente ripensato se non addirittura cancellato. Simile è la vicenda di Sky Metro perché le note critiche su Sky Metro sono venute addirittura dal Ministero delle Infrastrutture che ha analizzato il progetto con i suoi ingegneri e ha dato un verdetto piuttosto negativo sul progetto stesso, giudicato incompleto e lacunoso. In particolare agli ingegneri del Ministero non è piaciuta la soluzione del ponte che è stato progettato come raccordo tra Sky Metro e la stazione perché questo ponte sarebbe troppo inclinato a rischio per quanto riguarda la sicurezza. Inoltre non hanno convinto i tecnici del Ministero anche tutta la struttura a piloni che dovrebbe sorgere sull'argine del Bisagno per motivi di tipo idrogeologico e per altri motivi che sono legati proprio alla progettazione complessiva che non ha tenuto conto né di un rapporto costi-benefici che fosse adeguato alle dimensioni del progetto né a tutta una serie di altri fattori. I tempi di questi due progetti si stanno allungando con il rischio che anche i finanziamenti vengano meno ma forse ci sarebbe un'ulteriore e più importante riflessione da fare sul fatto che progetti concepiti così in splendido isolamento senza una previa consultazione della cittadinanza, senza avere un'idea di città che va dal di là dei singoli progetti mostrano la corda, mostrano tutti i loro limiti, mentre quello che è l'azione della giunta del fare sembra sempre più ricadere in quello che una volta in un articolo ho chiamato l'affaccendarsi inoperoso cioè il darsi tanto da fare senza poi concludere granché. Il rischio da questo punto di vista è grande ma c'è anche da fare una riflessione sui limiti dell'uomo solo al comando della fantasia di poter rinnovare una città di sana pianta partendo unicamente da una posizione di comando e qui come dire io ho un po' l'impressione che qualcuno si sia messo in testa di fare come l'uomo che rifece New York tra gli anni 40 e gli anni 60 Robert Moses il cosiddetto power broker che sfigurò in realtà la città rispetto a come era prima ma che comunque fu in grado di gestire in una maniera efficace il potere in città per oltre un ventennio beh però per riuscire a fare quello che fece il power broker come chiamavano Robert Moses ci vuole anche la statura adeguata e le capacità. Grazie. 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 Grazie.